L'idea del posto fisso che uno inizia a lavorare all'inizio della propria vita lavorativa e fino alla propria pensione con un unico posto di lavoro è ormai diventata oggettivamente una chimera e questa cosa però può influenzare, anzi influenzerà sicuramente in negativo la qualità della vita e anche tutta una serie di recadute di carattere economiche. Non si canta vittoria sul fronte occupazionale in Italia e in provincia di Arezzo. I dati del rapporto Excelsior realizzato da Union Camera in collaborazione con Ampal ci dà la fotografia di quali figure professionali cercano oggi le aziende e soprattutto quali e quanti saranno i futuri contratti di lavoro. Complessivamente il far bisogno in Italia nei prossimi mesi da parte delle imprese ci saranno 461 mila nuove entrate ma con questo grande punto interrogativo sulla qualità del lavoro. Soltanto il 17% dei contratti saranno a tempo indeterminato e l'Italia paga ancora una volta il gap tra formazione e lavoro. Un'impresa su quattro dichiara di avere difficoltà di reperimento, quindi c'è crisi, c'è disoccupazione, però le imprese che vorrebbero assumere però non trovano i profili coerenti, soprattutto per inadeguata preparazione. Questo significa che il più delle volte l'impresa cerca particolari profili che il mondo della scuola, il mondo dell'università, per esempio, in prevalenza per il test e l'abbigliamento. Il test e l'abbigliamento si chiedono dei profili particolari che il mondo della scuola ancora non riesce a far coincidere con quello che fa bisogno espresso dall'impresa. Grazie. Grazie. Grazie.